Ciao, sono Mena, ho frequentato l'Accademia di Trucco Permanente alla Liliana Paduano. Diciamo, sono pochi mesi, quasi un anno, diciamo che ho intrapreso questo percorso. E Maria Laura, come persona, come insegnante, è un insegnante che non ti lascia mai da sola. Mi sono sentita seguita durante questo corso da Maria Laura, dove ogni qualvolta che avevo un dubbio, avevo bisogno comunque di un sostegno, di un aiuto, lei è stata molto presente, non mi ha mai lasciato sola. Credo che affidarsi a una donna come lei con 30 anni di esperienza sia la miglior cosa per poter conseguire nel mondo del lavoro. Consiglio di poter andare a frequentare l'Accademia di Liliana Paduano, perché lì puoi avere veramente al 100% l'aiuto nel trovare un lavoro, la sicurezza per poter intraprendere questo percorso. E sei sicura al 100% che non ti abbandonano mai? Un saluto a tutti, ciao!